Benvenuti a tutti i giocherini, ben tornati qui sul mio canale signori, siamo di nuovo arrivati a grande richiesta signori su FC2 signori Siamo qua oggi perché praticamente ragazzuoli come avete ben visto e come vi ho detto mi sono creato il mio personaggio E mi avete detto praticamente di fare la modalità carriera Ragazzi vi giuro che questo gioco mi sta drogando totalmente Sto veramente amando questo gioco, lo sto amando veramente tantissimo, mi sta piacendo un casino Io ovviamente ragazzuoli, carica carriera, no, importa, usa un lottatore creato in precedenza Ho appena creato un lottatore e vi faccio vedere quanto è bello il mio lottatore signori, ve lo faccio vedere, siete pronti? Siete pronti a farvi vedere quanto è bello il mio lottatore? Ok signori ci siamo, ho ricreato di nuovo il mio personaggio perché praticamente non me l'aveva salvato Guardiamo un po' tutti, siamo set city, allora mori un po' Che bello il suo gioco Mamma Grazie, grazie Poi sono prontissimi ragazzi Praticamente da qui noi ragazzone abbiamo iniziato la nostra carriera Benvenuto e siamo prontissimi Dobbiamo stare nella squadra Squadra dei Cormier Squadra Jones Ok, dove abbiamo vincito? Ah, perfetto, dobbiamo vincere un incontro Praticamente chi vince sa vince Allora, dobbiamo fare forse qualche sfida? No, andiamo all'incontro Tantra di quelle là le sfide, chi se ne frega, andiamo all'incontro E siamo prontissimi, signori, per questo inizio serie Per questa inizia carriera Vi chiedo gentilmente di avere 20.000 like ragazzi per continuare questo fantastico gioco Ovviamente vi porterò qualche altro incontro insieme a Mike Shosha O chi ha questo gioco, secondo me Si può fare veramente qualcosa di fighissimo Ma Questo non è il mio personaggio, eh Ragazzi, io non ho sto coso brutto Eccolo De Guarda che stile è entrata Non so perché c'è questo stile, devo cambiarlo, fa cagare questo stile Sei bruttissimo Però il personaggio è figo, regalo Tu l'ho fatto tutto tatuato con i capelli blu perché c'è un proprio stile Guardate quanto è bello Sicuramente se andrì, signori, non so se rendo Quell'altro pare un pappagallo Guardate quanto è bello perché ho tutto tatuato Mamma mia che spettacolo Mi sono dimenticato di tatuargli la schiena, porca miseria Sono prontissimo, signori Giocherino, parte l'azione Vieni qua, scimmiottone Eh? Vieni qua, bastardo Ah, bastardo Il mio braccio ti piace, il mio braccio colorato Eh? Ragazzi, io il mio personaggio l'ho fatto praticamente misto di arti marziali Sbam, sbam, sbam Ok, allora, un attimo Un attimo, fin Ok, eccolo E va che te butto per terra A sacco di fango Postura alta, signori E parte il giocherino Poi cazzo, secondo, terzo Quarto Sbam, sbam Mamma mia ragazzi L'abbiamo massacrato Massacrato, massacrato, signori Va subito a vincere il giocherino Ok I totuaggi, ragazzi, sono bellissimi I totuaggi sono qualcosa di bellissimo Mamma mia, che spettacolo sto gioco Vabbè, questo hit, ragazzi Non insultiamo troppo Perché era un incontro easy Madonna che t'ho combinato Bello insieme Vattene a dormire C'è una certa ferma, teo Stai messo proprio male Dai, questa la saltiamo Ragazzuoli Allora Squadra Cormier Visizione top 3 Vosce di 5 e mezzo Combatti ancora Continua, continuiamo Perché l'ho massacrato Va benissimo Va benissimo così Va benissimo così, signori Io voglio farlo Un incontro come si deve Ovviamente devo cambiare Assolutamente lo stile dell'entrata Perché fa cagare Pare un po' lo morto Allora Dobbiamo entrare dentro Una squadra, signori Allora No Io voglio andare nella squadra Ah, io vedete Sono Ah, sono affatto solo Un automatico Eeeh La possiamo zompare Chi se ne frega Tanto io ormai sono Una squadra Con Cormier Va benissimo Squadra 1 Volevo andare nella squadra 2 Vi ricordo l'evità Perché a me piace il blu Quindi ci sono Avrei preferito andare nella squadra 2 Però Va bene Se il gioco così è deciso Così andiamo Il mio ortatore Comunque è bellissimo Allora Ragazzi ho visto anche alcune mosse abilità Solamente che Ragazzi ci serve Di fare molti incontri Perché dobbiamo sbloccare appunto Eeeh Molte cose Quindi andiamo a fare il nostro incontro Normalmente Appena sblocchiamo Qualcosina Che abbiamo le punti abilità Chiamiamoli Ci possiamo mettere delle mosse Veramente Stratosferiche ragazzi Io non vedo l'ora Allora Vedi i prossimi incontri Siamo prontissimi Voglio combattere Voglio il sangue Devo combattere Devo distruggere qualcuno Eliminazione Contro Tancot E accetto sì E accetto sì Eeeh Inizia l'allenamento Nella mia carriera Ok Ah questo ovviamente È un incontro Di allenamento La strada Era per la finale Di il team De Timut Foot Beh è ancora lunga I combattimenti Si vincono O perdono In fase di allenamento Quindi vai in palestra E prepararti Al prossimo incontro Ok Vediamo un po' L'attene l'allenamento Se ho il comando Di un colpo E mi fredda così Non posso continuare Boom Ok Perfetto Ah ma raga Comunque sto gioco è bello Cioè non ci credo Raga Sto gioco è bellissimo Cioè di fare anche L'allenamento così In palestra Fermiamo se è proprio Raga Bellissimo Ok raga Ho fatto un pochino Posso andare all'incontro Mi sono allenato un po' E dai Porca miseria Voglio andare a fare Questo benedetto incontro E andare a spaccare Il culo a qualcuno Comunque la cosa Che ti puoi allenare E migliorare tantissimo È veramente Veramente fantastica Come cosa Però Sono prontissimo A fare finalmente Questo incontro Allora E da 24 Io 22 Lui perfetto Mantieni inizio del round Vabbè lo so questo Vai Siamo prontissimi A fare il nostro primo incontro Madonna che è entrata Da Da rincoglionito Regà Do cambiamo Quell'entrata Siamo pronti Dai Primo incontro Sono prontissimo Mi gli spacco il culo Vieni qua Eh Gisbaldino Gisbaldino Pensi Pensi di farmi male Ah Oh cazzo C'ho cascato Alzate 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 Che è Sto carcione in fasce Regà gli ho dato Alzate Alzate Cammina su Orca troia di nuovo Era messa sul culo Era messa sul culo Ti capi Ti capi Ti capi in bel Carcione in faccia Ma questo non vale Già c'hanno muso schiacciare Oh cazzo L'ho preso bene Oh cazzo L'ho ripreso bene Oh cacchio Vai va regà L'ho preso bene Cammina che te sto Più a bene Eh Cammina che te sto Prende bene Mamma Mamma ancora Regà Guarda che te sto Prende bene Con questi carcci A questo Ma Ah però te sto Appia Un po' De danno Ma te lo sto Fai Portacci tua Non lo so io No lasciami qua Sgambetto Vai vabbè Niente Sgambetto Bum Madonna Che carcione Vai ci siamo rialzati Perché là di preciso Ragazzi non so Di preciso Come si fa Quella Quella mossa Bello Doppio colpo Fenomenale Signori Oh E la madonna Questo con calzotto Ma perché mi sbraga Questo con calzotto Mi sbraga Io sto a riempire le carce E bugni E bugni Gli è madonna Con calzotto Mi ha fatto Tanta fascia limita Oh Bottacci tua Bello Lo aspetta Giocherigno Vieni qua Vieni qua Eh Bastardone Vai che merisci tanto Vieni qua Eh ma non vale Portacci tua Se paga tipo Il culo che te ritrovi Bastardo Vieni qua Oh Oh Questa m'ammazza così Questa m'ammazza così Oh Non so capace Regà No Ma la fa Ma ha rotto il braccio Ok a posto Gnollanzo a bollo Regà Quella è l'unica cosa Che non so far Mortacci di pippo Vai Vai Ci riproviamo No Ce l'ha tolta Mortangoli Eri tua Eeeh E tosta Regà Mo non so Chi ha vinto E mi è convinto Che ho vinto io Regà Ma mi è sentato Che mi ha fatto una finaccia Qui Questo pure è convinto Che ha vinto lui Mi sa che stava Prendo del culo Qua regà Guarda Eh te pare E che no Sapevo io che ha divinto questo E che te pare Che vinceva lui Va bene Non fa niente ragazzi Non fa niente Tutto vale Per Potenziare il nostro personaggio Che attualmente È una cacata colossale È più forte Un vecchietto col bastone Quello è poco ma sicuro Allora Ci siamo fatti il primo incontro Abbiamo fatto un po' di elemento Vi ho fatto vedere la mia superstar Diciamo Il mio personaggio creato E adesso vediamo un attimo che succede Se no il video può termine E qua signori comunque È alla fine Abbiamo fatto l'incontro Purtroppo ci ha detto male Siamo andati Diciamo allo spareggio E praticamente ci ha rotto il culos Il mio lottatore Zero fan Grandissimo Siamo veramente Una bestia assurda Allora Abbiamo qualche Cosa da mettere Impiedi In clinch qualcosa No Non abbiamo messo nulla da mettere Ne sa nulla Nulla da mettere Perfetto Ammazza che bella cacata Va bene Ragazzuoli Spero che comunque questo video Vi è piaciuto Mi raccomando un bel po' in su Commentate e condividete Passiamoci a Facebook A noi ci vediamo Nel prossimo video Mi raccomando E noi ci vediamo Con un prossimo appuntamento Con il vostro giocherino Signori fatemi sapere Se volete altri video Di questo genere E mi raccomando Spoliciate 20 mila like Prossimo appuntamento E semmai facciamo anche una sfida Con altri youtubers Ciao signori